Cosa? Ma papà, sono dovuta andare! Con plastro prigioniero non ho avuto una storia decente da messi! Ma è che non mi hai obbedito! Oltrepassando la prima lina di un'importante battaglia, avresti potuto essere uccisa! Papà, per favore! La discussione è chiusa, signorina. Rimarrai alla base fino al prossimo avviso. Ora, a casa! Che casa! Vivo in una vasse dell'esercito. Signore, abbiamo appena... Ehi, ciao Vicky! Ciao, espione! È tutto Vicky! Ne riparleremo più tardi.